Nonostante di vieti la doppia ordinanza del Comune che vieta il consumo di alcolici strade e piazze del Centro, imbarba alle regole e anche di convivenza civile e alle sanzioni che possono arrivare anche sino a 500 euro, l'Aquila dopo la Movida continua a svegliarsi piena di bicchieri di plastica e bottiglie di vetro nelle vie e piazze centralissime, come si vede nel fotoreportage del Centro, immortalato la mattina presto. È accaduto nel primo weekend senza le restrizioni del coprifuoco e anche domenica mattina, dove gli operai dell'SM sono stati costetti a un lavoro enorme e certosino per restituire dignità al centro storico e non lasciare un biglietto da visita vergognoso ai tanti turisti in giro per la città. I titolari di attività sono sul piede di guerra e chiedono più controlli, ma anche i residenti, anche perché ora la moda è pure quella di acquistare le bevande a prezzi modici al supermercato e consumare in centro all'aperto lasciando poi tutti lì i rifiuti. Fatto sta che l'azienda che si occupa dei rifiuti fa uno sforzo enorme di fronte all'inciviltà di tanti, che evidentemente non hanno a cuore il bene comune e la città in cui vivono. Ritengo che gli organi di polizia dovranno purtroppo fare qualche intervento per far comprendere alle persone che la nostra città deve essere paragonata alla nostra casa. Non è più pensabile che ogni mattina in ogni vicolo del centro si trovino decine e decine di bicchieri di plastica e decine e decine di bottiglie di vetro. Non è pensabile, non è possibile e soprattutto ha un costo notevole per la comunità, perché fin tanto che riusciremo a fare un servizio, fra virgolette, incentivato, potenziato, bene, quando questa cosa qua, questo aspetto della vita urbana, dovesse invece diventare assiduo, diventerà un costo notevole, perché l'ASM sarà costretta a chiedere un'integrazione del contratto di servizio, il che significa maggiori costi per la cittadinanza. Tutto questo non ce lo possiamo e soprattutto credo che non vogliamo che accada. Per cui spero che tutte le autorità, a partire dal sindaco e dal prefetto e al questore, stimolino tutta quanta la cittadinanza, ma soprattutto i giovani, ad avere un maggiore rispetto della cosa pubblica. Questo è impecillibile da qualsiasi cosa.